Oltre 500 partite con la maglia del Sassuolo, di cui 200 in Serie A, dove ha militato ininterrottamente nelle ultime 8 stagioni. Parliamo di Francesco Magnanelli, metronomo di centro campo, ma soprattutto capitano e autentica bandiera della società nero-verde, per una storia nata oltre 15 anni fa nel 2005, quando il Sassuolo militava nell'allora Serie C2, e che lo ha portato a compiere una scalata sensazionale fino alla massima serie, sempre da grande protagonista. Per Magnanelli però tutto è cominciato da Gubbio, dove è arrivato giovanissimo dalla sua città di Castello, quando non ancora maggiorenne esordì in prima squadra rivelandosi al calcio professionistico. Così il centrocampista classe 1984 è stato ospite della scuola calcio Fontanelle presso l'impianto sportivo Marco Minelli, mantenendo fede alla promessa fatta lo scorso 25 marzo, quando durante l'incontro online organizzato dalla società e Gubbina, Magnanelli aveva promesso la presenza alla prima occasione proprio per incontrare i tanti piccoli calciatori in erba che vedono nel capitano del Sassuolo un esempio da seguire. Io qua c'ero stato a giocare, dicevo prima, vostro responsabile tantissimi anni fa, lo ritrovo più o meno simile, con l'entusiasmo dei bambini che è immutato ed è una cosa bellissima. Credo che il calcio vero sia questo qua perché è da qui che si comincia, è da qui che ci si diverte, è da qui che si apprezzano veramente i valori. Ovviamente anche noi abbiamo, come spesso si sente dire, delle responsabilità ovviamente ed è giusto che sia così perché come da piccolo guardavo io i giocatori, quelli che giocavano in Serie A, cercavo di apprendere il più possibile ma soprattutto di osservare e quindi loro fanno adesso con noi giocatori. Io sono arrivato a Gubbio a 14 anni dopo aver fatto tutte le giovanili a Città di Castello, la mia città natale, nella Tiferno 90 e sì, ho fatto due anni di giovanili dove ho avuto modo di conoscere degli ottimi allenatori e tuttora dei ragazzi che sento quindi è rimasto un rapporto molto intenso e ho avuto un'annata incredibile in prima squadra all'età di 16-17 anni e poi da lì ho avuto la fortuna di, con qualche intoppo però, di riuscire a ritagliarmi uno spazio importante in Serie A quindi è stato sicuramente un bellissimo inizio dove, ripeto, mi hanno accolto in modo incredibile e come spesso dico quando parlo di Gubbio, non so, però c'è un legame forte e ogni volta che torno qui, ogni volta che parlo di Gubbio, ogni volta che le persone di Gubbio mi incontrano anche fuori dalla città, non lo so, pur avendo fatto così poco però c'è un ricordo e un legame veramente forte quindi questa è una cosa molto molto bella. Dopo un'annata condizionata da infortuni in cui ha collezionato solo 10 gettoni a 37 anni da compiere il prossimo novembre, Magnanelli non ha minimamente intenzione di scendere di categoria o appendere le scarpette al chiodo e sta discutendo, proprio in questi giorni, con la società emiliana il contratto in scadenza a fine mese per occupare ancora un ruolo di primo piano fuori ma soprattutto dentro il rettangolo di gioco. In questi giorni stiamo cercando di rapportarci, di discutere con la società ma ormai il discutere con la società dopo 15 anni diventa quasi banale nel senso che ormai c'è un rapporto talmente di stima con la proprietà, con i dirigenti che sono veramente diventati più, va al di là del semplice rapporto lavorativo e quindi ne stiamo parlando adesso, io ho una gran voglia di continuare almeno un altro anno perché mi sento bene, perché questo è stato un anno importante per la squadra è stato un anno un po' così così per me perché ho avuto qualche infortunio di troppo quelli che non ho avuto in passato li ho avuti tutti in un anno però mi sono ripreso bene, ho finito bene, mi sento ancora competitivo ho voglia di finire meglio di come ho finito quest'anno quindi spero di avere la possibilità, poi in futuro vedremo adesso mi sento ancora un giocatore a tutti gli effetti.